Una spaccatura vera e propria, altro che Partito Democratico Unito. L'avvertura si è registrata ieri sera in Consiglio Comunale. Nasce il gruppo, adesso gela. Ne fanno parte Giuseppe Ventura, nominato capogruppo, Antonino Biondo e Cristiano Luzzo. I tre consiglieri non accettano la definizione che gli è stata data di ribelli. Noi non siamo ribelli ma siamo semplicemente coerenti con quella che è stata la scelta della popolazione. La popolazione ha chiamato a quello che è il Partito Democratico, tutto il centro-sinistra, di fare opposizione a questo governo e noi continueremo a farlo in maniera costruttiva, ripartendo dal basso e dialogando nuovamente con quelli che sono i comitati di quartiere, con quelli che sono i cittadini, con le istituzioni, con le associazioni che hanno perso ogni tipo di riferimento nella politica. Noi da questo dobbiamo ripartire per costruire anche una grande coalizione di centro-sinistra all'interno del Consiglio Comunale. Finalmente escono allo scoperto, ha detto ieri in aula il vice capogruppo del PD Carmelo Orlando. Adesso si capisce chi sta con i poteri forti. Ventura e Biondo sono fuori dal partito. Da che pulpito viene la predica? Che intanto ci dicesse quali sono questi poteri forti. Io di forte che ho, l'unica cosa forte che ho è la passione nei confronti della politica e quindi è strano che mi vengano a me a parlare di poteri forti quando ho da sempre manifestato la mia intenzione, la mia volontà insieme ad altri, insieme a Consigliere Biondo, insieme a Consigliere Mallusso, della netta opposizione rispetto all'amministrazione comunale. Quindi quali sarebbero questi poteri forti? Poi Orlando dimentica che proprio lui ha sostenuto cinque anni fa contro il PD un'altra lista. Il Consigliere Orlando dovrebbe ricordarsi che lui, il fratello e tutti quanti erano candidati nella lista contro il PD quando allora era candidato sindaco speciale. Quindi è strano che oggi proprio da lui mi arrivano queste indicazioni. In realtà la segreteria nazionale e quella regionale non la pensano così. Noi siamo del PD, volevamo un PD unito. Questi vertici locali non lo permettono. Voi dovete solo pensare che il gruppo consigliere del PD, che era di sette componenti e che poteva diventare dieci con l'ingresso di Casano, Pane Bianco e Mallusso che ne hanno fatto richiesta, poteva diventare da dieci consigliere comunali. Oggi si ritrova con cinque consigliere comunali. Noi non contestiamo l'attuale PD perché riteniamo di essere l'unico PD vero di questa città. Noi non siamo una costola del Partito Democratico. Noi siamo le viscere del Partito Democratico che reclamano giustizia e che reclamano la legittimità di essere rappresentati come Partito Democratico in questa città. Lo abbiamo detto a tutti i livelli regionali, a livello nazionale e dai vertici regionali, dai vertici nazionali abbiamo avuto, voglio dire, non c'è nessuna questione particolare, anzi abbiamo avuto spazio libero per poter fare politica vera su questo territorio. Io non ho padri, non ho padrini, non ho illustri genitori, sono figlio di un operaio della raffineria, come diceva qualche predecessore, ma ritengo che noi abbiamo il diritto di fare crescere questa città assumendoci le responsabilità, noi personalmente, non col telecomando appoggiare messinese e siciliano una volta sì e una volta no. Io ho sempre detto no, io intendo responsabilmente governare questa città e governarlo con un nostro programma politico.